le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di martedì 30 maggio ariete in questo periodo di grande rilancio riuscite a trovare anche l'entusiasmo per ravvivare una storia d'amore che sembrava sul punto di naufragare le persone che vi stanno vicino riescono sempre a darvi un sostegno straordinario sul lavoro c'è grande fermento la fortuna viagevola toro tanti pianeti in aspetto difficile vi rendono piuttosto agitati molto suscettibili nei confronti dei familiari il giorno è ottimo per chi deve svolgere dei lavori in casa oppure cambiare domicilio in amore sarà più difficile dialogare con il partner a causa delle vostre impuntature gemelli questo marte vi mette addosso un grande desiderio di indipendenza per questo qualche rapporto sentimentale andrà in sofferenza bisogno di distacco anche nei confronti della famiglia c'è movimento di denaro intorno a voi potete concludere un ottimo affare o evitare una fregatura cancro una giornata fortunata per chi deve incassare denaro buone prospettive anche sul lavoro sarete gratificati e potete avanzare una richiesta in amore siete troppo possessivi e non volete ammetterlo ricordate che anche voi avete bisogno dei vostri spazi quindi sarà bene non rimproverare il partner leone sappiate lasciarvi andare di fronte ad un nuovo sentimento avete bisogno di rigenerarvi specialmente se siete reduci da una separazione nella coppia regna l'armonia e il desiderio di progettare sul lavoro spesso non siete lucidi nelle vostre valutazioni specialmente quando vi fate guidare dall'istinto vergine nel matrimonio possono esserci degli avvenimenti imprevisti il vostro desiderio di emancipazione può segnare un brusco cambiamento nei confronti del partner novità interessanti per quanto riguarda il lavoro arrivano nuove offerte di collaborazione e occasioni di guadagno bilancia passo dopo passo state sistemando tante cose della vostra vita siete alle prese con cambiamenti importanti che richiedono anche un pizzico di coraggio da parte vostra gli amici possono essere un sostegno importantissimo mentre in amore è arrivato il momento di cambiare gli equilibri di un rapporto scorpione il vostro temperamento combattivo e vendicativo è esaltato da questo marte in gemelli avrete voglia di saldare un vecchio conto specialmente se riguarda il lavoro in amore non trovate mai la giusta via di mezzo o troppo distanti dal partner o eccessivamente gelosi cercate di non esagerare sagittario una giornata che promette dei veri e propri colpi di scena per l'amore incontri che possono avvenire nel corso di un viaggio facendo attività fisica novità anche per chi ha le prese con studi superiori un esame può essere superato agevolmente il lavoro un po vi annoia ma oggi vi sorprenderà capricorno il vostro senso del dovere vi permette di affrontare le difficoltà sul lavoro con pazienza e razionalità non c'è niente che possa scalfervi in questo momento in cui trovate soluzioni per tutto solo l'amore vi vede in difficoltà le vostre prese di posizione granitiche rischiano di scavare solchi profondi acquario giorno molto positivo per intraprendere una battaglia legale la luna e leone è ideale per contattare un avvocato o un notaio novità anche per il vostro lavoro avete l'occasione giusta per prendervi una rivincita che aspettavate da tempo l'amore offre tentazioni pericolose pesci regna un po di caos in casa vostra siete nervosi ed irrequieti e il vostro stato d'animo si ripercuote negativamente sui vostri cari c'è bisogno anche di sbrigare qualche faccenda lasciata in sospeso sul lavoro non riuscite ad organizzarvi e rischiate di far saltare una scadenza rimanete concentrati e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna le stelle di azus